Chiude i battenti il reparto covid modulare dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. 200 i pazienti ricoverati nella struttura dalla sua apertura che come noto ha scatenato anche molte polemiche relative ai costi e all'allestimento. A tracciare un bilancio il direttore generale dell'azienda ospedaliera Enzo D'Amato che volge anche uno sguardo al futuro. Utile e indispensabile perché i pazienti che hanno trovato posto lì se così non fosse stato non avrebbero trovato posto altrove. Per cui è stata una scelta a mio avviso giusta, corretta, che ha dato delle risposte e che servirà anche per il futuro. Perché quei posti di rianimazione oramai il governo ci ha chiesto di intensificare al di là del covid, di intensificare i posti di rianimazione che sono stato il vulnus, il limite, il vincolo di tutte le strutture sanitarie. Oggi abbiamo 32 ricoverati covid in tutto i Ruggi di cui solo 4 qui nel prezzo di via San Leonardo che quindi a breve si libererà totalmente dei pazienti covid. Gli altri stanno al da procida, solo 6 in semi intensiva, nessuno in rianimazione. Per cui dati estremamente favorevoli. E grazie a questa riduzione del numero di ricoverati covid noi abbiamo ripreso le nostre attività ordinarie. Oramai abbiamo ripreso, si può dire praticamente, tutto. Oggi riapre Cava, riapre la terapia intensiva di Cava, fatto estremamente importante e siamo riusciti anche a reclutare dei chirurghi. C'era un problema sui chirurghi. Faremo cose importanti perché riprenderemo le nostre programmazioni e realizzeremo un nuovo pronto soccorso, una nuova terapia intensiva. Insomma quell'ospedale cambierà il proprio volto. Abbiamo anche in corso acquisti di attrezzature importanti per tutti i nostri presidi, le nuove TAC, un nuovo acceleratore lineare. Avremo finalmente una pezza TAC per i ruggi, non c'è mai stata. Abbiamo avviato l'acquisto di un robot. Quindi avremo anche la chirurgia robotica, ruggi, altra cosa forsemente voluta dalla regione Campania. Come pure riprenderemo il progetto Polo della riabilitazione da Procida.